amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati appuntamento del lunedì inizia una nuova settimana prima di presentare i miei ospiti che comunque vedete già apparire mosca dichiara di aver abbattuto quattro missili di produzione americana nel suo spazio aereo e qui ovviamente la esamineremo insieme appunto agli ospiti di oggi poi truppe di mosca ammassate in bielorussia vedremo cosa sta avvenendo e via via altri argomenti la produzione in giappone che torna nella paese le aziende rivedono le catene di approvvigionamento approfittando della debolezza dello yen ovviamente loro hanno moneta sovrana e quindi possono fare le politiche migliori nell'interesse del paese e poi la parte fondamentale sulla sull'unione europea e consiglio il parlamento europeo ma direi che presento subito eccoli qui stefano orsi benvenuto ben ritrovato buongiorno a tutti ciao carlo ciao marco il redattore responsabile dell'omonimo canale youtube benvenuto giacomo gabellini analista economico scrittore ciao carlo ciao stefano buongiorno scusa mi ti ho chiamato marco a cosa era riferito marco va bene l'ultimo ospite del tuo canale l'ultimo ospite che hai avuto nel tuo bellissimo canale no ma ha mandato il messaggio l'amico marco bordoni mi sono confuso allora veniamo a direi notizia notizia del giorno allora il catar praticamente sta ricattando l'unione europea qui si profila un insabbiamento speriamo di no ovviamente ma magari veloce del noi lo chiamiamo potremmo chiamarlo euro gate a questo punto comunque il catar ha fatto sapere che se bruxelles portare avanti l'inchiesta cosiddetta finora catar gate salteranno anche gli accordi di fornitura del gas eh giacomo cosa sta avvenendo cosa si cosa si profila è che adesso si invertono insomma le eh le l'onere della responsabilità quasi cioè che gli europei stanno cercando di bloccare i lobbisti catarioti rappresentanti del catar bloccando loro l'ingresso nelle nelle sale che contano diciamo dopo la luce di quello dei scandali che sono emersi quasi che qui eh tutti scoprono l'acqua calda che a livello internazionale le il sistema tangentizio fosse la regola e non l'eccezione chi credo che chiunque lo sappia in particolare con quando si parla di energia eccetera eh la giudicazione di commesse eccetera 9 volte su 10 in certe aree del mondo viene si basa proprio sull'erogazione di eh liquidità diciamo eh basata su motivazioni non esattamente eh limpidissime quindi che ci fosse eh corruzione per me era scontato scontatissimo il fatto è che eh qui in questo caso la situazione eh si è si è focalizzata molto l'attenzione sui sui mondiali di calcio in realtà per quanto mi riguarda il problema risaliva ad anni addietro e riguardava investiva in particolar modo il nostro paese che da diversi anni ha aperto le proprie porte e le ha spalancate completamente al fondo sovrano Catariota che permettendo al Catar di entrare nei consigli di amministrazione di rilevare quote azionari di aziende molto importanti anche dal punto di vista strategico la Piaggio per esempio ma tante altre banche società di investimento assicurazioni eh e non solo quindi le strutture di accoglienza di diciamo alberghiere eccetera come la ben nota località eh sarde che sono state in cui i Catariota hanno fatto manbalsa qui si tratta proprio di eh di una questione di sicurezza nazionale che è stata completamente messa fatta cadere nel dimenticatoio grazie al denaro assonante che è stato erogato dal Catar e il quale si va di bene che l'attenzione sia focalizzata soprattutto sull'ambito diciamo del dei diritti eccetera ma anche il settore dei trasporti è molto interessante essere molto interessato con Catar Airways che ha ottenuto pieno accesso al mercato rispettivo mercato europeo probabilmente anche grazie a queste a queste meccanismi diciamo di che hanno ingrassato alcuni alcuni partiti politici alcuni rappresentanti politici si cerca adesso quindi di eh minimizzare le responsabilità europee scaricare tutto la corpa sui corruttori e non sui corrotti il problema non è che ormai il gioco la frittata è credo sia fatta e mi pare piuttosto ipocrita e soprattutto pericolosissimo eh avanzare questo tipo di di misure nei confronti del Catar visto che ci siamo negati eh minimicati la Russia come fornitore di di gas e la Libia non ci consente più non c'è assicura più eh regolari forniture come prima del 2011 prima che attaccassimo la giammaria libica di Gheddafi e quindi adesso ci manca solo che eh ci sblocchiamo ci inimichiamo anche il Catar quindi rinunciamo le loro forniture e a questo punto io non so di cose eh con cosa potremmo andare avanti quindi mi pare che siano ipocriti e anche un po' stupidotti questi europei. Senti Giacomo secondo te con con queste premesse secondo te il Catar avrà a gioco facile a far insabbiare a Bruxelles le indagini? A meno che non vogliano non qui non si voglia veramente farmi far a meno completamente del 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 gas naturale credo proprio di sì c'è il coltello dalla parte del manico e può benissimo anche chiudere il rubinetto degli approvvigionamenti all'Europa senza incurrere in grossi danni adesso ha firmato un contratto con con la per la fornitura dalla Germania e quasi sicuramente si appresterà a firmarne altri però non è che il Catar ha tutto il tempo e ha dei clienti da di vecchia data e quindi non ha assolutamente bisogno di non è assolutamente con l'acqua alla gola come lo siamo noi. Sì e Stefano tra l'altro per quanto riguarda il gas anche nei riguardi del Catar vediamo che ogni paese europeo si sta muovendo per conto suo alla faccia dell'Unione Europea Macron stesso che ieri era alla finale proprio ci è andato ma è l'ennesimo giro che fa in Catar e lì proprio in prima fila senza nessuna senza nessun problema insomma no? Sì il problema nostro è davvero quello delle forniture nel senso che il Catar ha venduto tutto ciò che può vendere nei prossimi trent'anni nel senso che i contratti che ha sottoscritto di fatto vincolano tutta la sua produzione disponibile perché ha firmato un contratto trentennale con la Cina e la Cina quello che li mandano lo prende e qualche cosa mandano alla Germania perché ha ceduto e ha firmato un contratto pluriennale la Germania non voleva firmare un contratto pluriennale e hanno detto voi non volete firmare e noi non vi vendiamo il gas come anche hanno vincolato la vendita alla Germania alla non rivendita ad altri paesi per esempio lo scandalo in questo momento che coinvolge la vice presidente tra gli esponenti più di spicco la Eva Kaili che è un'eurodeputata greca ormai ex vice presidente no credo ah beh ma quando diventano inquisiti sono tutti ex come quando arrestano un poliziotto di un poliziotto è un ex solo da un punto di vista mediatico dici esattamente sì nel senso che sono personaggi dal carattere piuttosto forte le donne greche in generale eh lo sono adesso senza generalizzare ma lei sicuramente non è una sprovveduta eh è chiaro che di fronte al rischio di pagare lei per tutti dirà sentite che muoia Sansone ma vengano con me tutti i filistei no? E quindi eh voteranno il sacco di fronte agli inquirenti posto che gli inquirenti siano inquirenti reali e non eh di una parte che magari a un certo punto stoppa stoppa e ferma le indagini però se sono partite queste indagini qualche cosa sotto c'è quindi è possibile che ci sia la volontà di creare una sorta di sconquasso all'interno delle istituzioni della UE proprio attraverso la chiave della corruzione e lo dico perché non è una cosa alla quale noi italiani siamo alieni no? Cadono proprio quest'anno i trent'anni credo dall'arresto di Mario Chiesa se non era il 93 non mi ricordo più bene. No no 92. 92 esattamente quindi eh ritornando un po' con la mente indietro a cosa è servito eh questo questo arresto, questa indagine che partì dal Pio Albergo Trivulzio eh se non a creare poi la distruzione di una classe dirigente. Ecco se noi vogliamo pensare che il conflitto ucraino abbia come principale obiettivo la distruzione eh di quella che è la l'economia e le istituzioni europee al fine di asservire meglio agli Stati Uniti eh tutta la nostra presenza diciamo in questo continente ecco che anche da questo punto di vista una bella ripassata di carcere per un tot di personaggi getterebbe sufficiente discredito e sfiducia ulteriore da parte di molta fascia di cittadini che ancora eventualmente ci credessero verso le istituzioni europee. Eh sicuramente la corruzione non si ferma a due o tre personaggi perché questi fanno direttamente capo alla Presidente del Parlamento, sicuramente a dei membri della Commissione quindi vedremo che cosa succederà eh più avanti ma di sicuro non credo che si fermi a questo se noi immaginiamo la cosa come un iceberg stiamo solamente spolverando la punta. Sì. E quindi qualche cosa emergerà. Il Qatar per me sta tranquillo nel senso che se se loro tagliano le le non è che forniscono il gas a Lussemburgo lo forniscono alla Germania voglio dire i tedeschi stanno ben attenti a quello che fanno stavo per dire con le loro risorse energetiche ma mi è venuto in mente il gasdotto quindi voglio dire che gli saltino anche quelle. Sì. È una punta dell'iceberg. Tu Giacomo che che scenari prevedi a livello europeo di Unione Europea proprio. Io che ci sia questo tentativo questa un'idea una una volontà di fare non so piazza pulita comunque se stare un un colpo magari mediale alla residua credibilità di cui ancora godono i parlamentari gli europarlamentari ma più in generale la struttura tecnocratica burocratica dell'Unione Europea credo che sia credibile. Penso che nell'ottica di qualcuno di qualche potere forte queste queste strutture abbiano svolto il ruolo che per cui erano state concepite e ormai siano più che altro di un piccio da impedimento rispetto al conseguimento di alcuni obiettivi quindi non è assolutamente da scartare l'ipotesi avanzata da Stefano ci avevo pensato anche io obiettivamente diversi giorni fa quando vedi scoppiare uno scandalo con quel tempismo poi quindi a mondiali ormai praticamente addirittura d'arrivo diciamo che più di un dubbio sorge e poi guarda caso tirano in ballo un paese che al quale fino solo fino pochi anni prima come dicevo si hanno spalancate le porte dell'economia ma non solo italiana ma anche altri paesi e hanno lasciato entrare il fondo sovrano catariota nelle proprie nei consigli di amministrazione di numerose aziende di enorme importanza quindi credo che ci sia una sorta di regolamento di conti anche sia all'interno del continente europeo sia su cui probabilmente qualche potere esterno intende ricavare un proprio vantaggio quindi credo che ci siano anche alcune altre manine ancora da individuare ma vienerebbe da dire che quando succedono queste cose le manine sono sempre più o meno quelle e quindi come c'era quella a mio parere visibilissima nel 1992 che aveva portato allo scattivino guarda caso l'anno dopo che viene giù tutto il sistema il blocco il blocco sovietico finisce l'unione sovietica eccetera il muro di berlino finisce l'unione sovietica subito immediatamente scatta un processo di ripulitura dei tradizionali referenti politici di cui a cui gli stati uniti avevano si è su cui gli stati uniti si erano appoggiati rispetto al teatro europeo al teatro italiano quindi via la democrazia cristiana via il partito socialista chi più ne ha chi più ne metta come se improvviso tutti gli italiani si fossero accorti che non c'era la malversazione era un costume piuttosto diffuso e prima invece non ne sapessero niente in realtà chiaramente non era così qualcosa era cambiato è possibile che qualcosa sia cambiato anche adesso stia cambiando i prossimi mesi ci diranno se queste nostre valutazioni sono degne di sono corrette oppure abbiamo sbagliato bersaglio certo e noi la seguiremo la seguiremo giorno per giorno l'evoluzione di questa vicenda che secondo probabilmente è riservata a dare grosse sorprese quindi comunque qui ci sono questioni economiche anche geopolitiche proprio ai massimi livelli veniamo al conflitto russo ucraino perché anche se in questi giorni qui non è al livello proprio di massima visibilità sembra sembra che le cose stiano in una fase quasi di stallo ma invece la situazione sono molto molto interessanti da analizzare Stefano e direi che partiamo dalla dalle truppe di mosca che sono ammazzate in bielorussia sembra che dovrebbe trattarsi di una esercitazione militare in bielorussia a te la parola guarda per quanto riguarda le truppe russe in bielorussia ci sono cifre discordanti sui nei numeri chiaramente da una fonte all'altra secondo fonti russe si tratta di alcune decine di migliaia di soldati che sono lì in addestramento e cioè fanno parte di quelli che sono i richiamati quindi immobilitati e che stanno addestrandosi assieme alle truppe bielorussi in una esercitazione continua di entrambe le parti perché sai che è stato firmato tempo addietro un accordo di difesa comune da parte dei dei due paesi nell'ambito di di quella che diverrà una riunificazione uno stato unico diciamo e che vede appunto nella difesa comune un un caposaldo di questa nuova di nuovo corso della politica bielorussa oggi tra l'altro è in visita a putin a minsk è atterrato poco fa all'aeroporto ha spezzato il pane insieme a lukashenko accolto da un paio di ragazzi nel tipico costume bielorusso noi abbiamo cifre invece divulgate da fonti bielorusse scusate ucraine che parlano addirittura 200 mila soldati mobilitati russi presenti in bielorussa sono cifre che credo non stiano né in cielo in terra a livello numerico la bielorussa circa 60 mila soldati avere 200 mila soldati russi vedrebbe una predominanza assoluta questa presenza non passerebbe in osservata ecco ecco ci sono sicuramente arrivi di caccia arrivi di mezzi dalla russia che servono per queste esercitazioni ma al momento non vedo ancora almeno in questo preciso momento non vedo ancora il dispiegamento di forze tali per cui si possa pensare a un'invasione per fare questo ci vuole un'altra serie di arrivi di sistemi d'arma e di mezzi che difficilmente sono passati in osservati in passato se lo fossero adesso sarebbe una novità questa sì però il rischio qual è e qui veniamo al dunque quello che avevamo ipotizzato più volte anche in alcune puntate sul mio canale con virgilio è un ingresso da parte del di forze russe sulla zona di rivne e lust perché qui corre un'autostrada che collega lublino a chiev quindi questa strada darebbe il controllo innanzitutto su una grossa centrale nucleare che è vicino a sarnia 40 chilometri dal confine con la bielorussa bielorussa poi porterebbe le truppe di mosca molto vicine alla zona di leopoli quindi molto vicina con i droni d'attacco alle vie di rifornimento che passano lambiscono la polonia e la romania dalle quali passa diciamo il 90 per cento degli aiuti militari dell'occidente della nato all'ucraina e che questi aiuti militari sostengono in tutto e per tutto di fatto l'azione militare di chiev quindi un eventuale ingresso da nord strategicamente è una mossa da non sottovalutare logisticamente creerebbe molti problemi e quindi io la prendo con le pinze è una possibilità ma potrebbe anche non verificare se ha fatto dipende dalle capacità che hanno le forze russe di sostenere uno sforzo diviso e cioè avere un fronte in una zona del paese e poi da tutt'altra parte un altro fronte lo potrebbero fare se entrasse in conflitto probabilmente anche la bielorussia questo sì ma non così la cosa principale invece venendo al fronti con la diciamo il conflitto in essere noi abbiamo la presenza la segnalazione di nuovi arrivi da ieri nella zona di zaporizie quindi a nord di melitopol che è la zona il corridoio centrale che collega diciamo la russia continentale alla crimea in questa zona noi abbiamo sempre più segnalazione di arrivi di soldati bielorussi da dove scusate ucraini da dove arrivano arrivano dalla zona di kerson cioè si spostano da dove non servono più e vengono spostati in questo settore qua nella zona poi di di donetsk segnalo e un po denuncio il continuo fuoco con armi occidentali contro obiettivi civili addirittura stanno colpendo gli ospedali e questo è gravissimo ci sono filmati di denunce di più reporter e testimoni dei fatti più a nord continuano i combattimenti da ambo i lati ad arti o mosca ad esempio che nella denominazione ucraina e bakmut l'iniziativa in mano ai russi che lambiscono diverse località sempre più spostati verso ovest dai loro fronti di opitne e altri avanzano quindi a sud della città ma anche a nord di di arti o mosca e poi invece più a nord si combatte con un'iniziativa sulla terra da parte ucraina ma con l'artiglieria da parte russa c'è una fortissima risposta e quindi di fatto il fronte in questa zona resta fermo i russi invece non stanno affatto fermi dal punto di vista dei bombardamenti sugli obiettivi strategici e cioè le infrastrutture elettriche energetiche nei giorni scorsi una pioggia di missili circa 70 80 missili ha colpito centrali in tutto il paese comprese a zaporizia la centrale idroelettrica non è stata colpita la diga e badate bene sia chiaro è stata colpita sono stati colpiti locali dove avviene la trasformazione si passa dall'energia diciamo cinetica delle turbine azionate dall'acqua agli alternatori che generano la corrente e quindi la corrente in quel da quella centrale per un po non arriverà stessa cosa è stata colpita chi e sono state colpite molte altre zone l'unica zona che non è stata colpita proprio per niente torniamo all'inizio del discorso è stata la zona di rivne lust quelle non sono state colpite e può essere un'indicazione di qualche tipo stamattina nella zona di chiev e in altre città si sono svegliate con una grandinata di droni geran che hanno incendiato nuovamente la la centrale una delle centrali termo elettriche di chiev e la zona di nuovo piombata nel buio più totale fino a venerdì o giovedì le temperature sono intorno a meno 10 in città quindi fa freddo e dovrebbe migliorare da dopo domani cioè da mercoledì iniziare a salire le temperature giovedì per la vigilia di natale nostro dovrebbero essere sopra zero addirittura ho capito ho capito questa è la la gli aggiornamenti da un punto di vista delle manovre belliche e quindi logistiche e giacomo la guarda la ma ha nominato poco fa stefano la crimea che potrebbe essere queste le parole di l'ex premier britannico boris johnson e di kissinger l'ex segretario di stato potrebbe essere la crimea la pedina di scambio per arrivare a un accordo di pace ecco ti lancio questo punto ma se vuoi dopo commentare anche quello che ha detto stefano a te la parola mi pare del tutto verosimile la crimea ormai i russi la danno per acquisita e non assolutamente non negoziabile ma non solo la crimea io credo che tutte le altre le altre regioni che la federazione russa russa in anni esso di cui ha firmato il decreto di inglobamento nella federazione russa sono ormai di fatto da considerarsi dal punto di vista del creminino a regioni russe al quale non mosca non rinuncerà in nessun caso questo secondo me è da chiarire cioè sarebbe e qui varrebbe la missione di una disfatta da parte della russia rinunciare a queste a queste regioni che sono state come dicevo prima formalmente annesse anche con quelle cerimonie e con anche dell'impatto psicologico dei referendum eccetera quindi credo che più siamo più il tempo più passa il tempo più si restringono le possibilità di divenire un accordo un negoziato a intavolare un negoziato che possa produrre una un'intesa il più possibile bilanciata diciamo tra le parti più in più parti più passa il tempo più la russia alzerà l'asticella delle pretese un dato di fatto in e poi soprattutto a questo punto c'è da chiedersi cosa c'è da negoziare cosa c'è da scambiare ormai gli occidentali hanno riversato sull'ucraina qualsiasi anche si parlava di missili patriot si parlava di miss di sistemi antiaerei italiani che l'italia aveva fornito per ponendo il segreto ma l'ambasciatore ecco tra l'altro ti chiederò fra un attimo anche il segreto di stato no l'italia ha posto segreto di stato sulle forniture ma è stato al girato non è più un segreto di stato sì esatto è un segreto di pulcinella quindi soprattutto c'è ci sono state imposte una sanzioni draconiane contro la russia ormai obiettivamente tutto quello che si poteva fare è stato fatto quindi approvato tra l'altro al nono pacchetto ecco di sanzioni contro la russia ormai da parte della russia non credo che ci sia la disponibilità di accettare un accordo diciamo al ribasso quindi queste sono più illusioni dal mio punto di vista quello espresso da johnson e da kissinger kissinger mi stupisce che se ne esca con una considerazione di quel genere perché il personaggio è ben più acuto di un boris johnson qualunque però questa è la mia opinione per lo meno quanto invece ai fronti di cui parlava il quadro che ha delineato stefano sul terreno di battaglia credo che la presenza di militari personale militare russo in bielorussia possa rappresentare una sorta di manovra psicologica cioè una sorta di diversivo attraverso cui mosca intende esercitare pressione sul nord del paese ricordo che inizio conflitto ci fu una una pressione militare fortissima da parte dei russi verso chi è che poi si poi comunque fu una manovra come come dicevo prima anch'essa diversiva io ho avuto è venuto da pensare che magari potessero cercare di ripetere anche in maniera diciamo con una versione alternativa però quella quella manovra che era stata compiuta nei primi mesi del conflitto però credo che le valutazioni diciamo le denunce di ricchi dei ucraini circa la presenza di centinaia di migliaia di soldati russi di bielorussia siano assolutamente esagerate perché come diceva stefano si tratterebbe di un suo avvertimento dei dei rapporti di forza praticamente un'invasione della bielorussia ad opera dei russi quei numeri sono qualcosa di sbalorditivo sarebbero quindi non credo che siano realistiche quel tipo di valutazioni ma siano solo diciamo sparate politiche mirate ad ottenere a strappare qualche concessione in più da parte di Kiev ai suoi supporter occidentali niente di più allora esaurito questo argomento ma ovviamente ci torneremo anche la settimana prossima se non prima io andrei dall'altra parte proprio del globo perché andiamo a parlare del Giappone che è una delle principali economie in assoluto del del mondo perché la produzione ritorna a casa praticamente mentre le aziende rivedono le catene di approvvigionamento e approfittano della debolezza dello yen cosa cosa sta avvenendo in in Giappone Giacomo stanno riportando proprio dentro la produzione va finita la delocalizzazione sta finendo quantomeno diciamo che con la frattuazione è una notizia molto importante questa con lo stravolgimento del mercato mondiale provocato prima dalla pandemia e successivamente dalla guerra ucraina ma era un processo che già comunque era in atto da tempo di disarticolazione delle tradizionali catene di approvvigionamento molti paesi hanno capito l'antifone quindi hanno cercato di mettere al sicuro la propria produzione rimpatriando il più possibile anche gli anelli più deboli diciamo delle proprie catene del valore il Giappone in particolare nel corso già degli anni 80 aveva diciamo innescato un processo di esternalizzazione di alcune produzioni dal basso valore aggiunto verso le tigre asiatiche cosiddette tigre asiatiche attraverso quattro cinque ondate di diciamo di delocalizzazione che prima il primo anello di isola quindi taiwan la corea del sud eccetera poi a seconda ondata indonesia e ha coinvolto tutto sud est asiatico aveva comunque disseminato diciamo di proprie produzioni tutto il sud est asiatico e rimanendo rimponendosi come hub diciamo di come dotandosi di una periferia industriale in tutto il sud est asiatico e mantenendo preservando dentro di sé gli anelli più succulenti della catena del valore quindi le produzioni da maggior valore aggiunto diciamo questo è stato un processo che il Giappone ha fatto e che la Germania ha replicato a suo modo nell'ambito europeo con lo spostamento delle produzioni in tutta l'Europa centro orientale dove ci sono paesi che appartengono all'Unione Europea ma non all'Euro, all'Eurozona quindi la Repubblica cieca, la Polonia eccetera e con questa diciamo con la messa in crisi di questo sistema dell'economia mondiale diciamo dei meccanismi di funzionamento del mercato mondiale dovuto a questa come dicevo la pandemia e la guerra e ha cercato il più possibile di rimpatriare le produzioni entro i propri confini nazionali basandosi diciamo incentivando questo processo attraverso una politica monetaria fortemente espansiva che il Giappone ormai porta avanti da molto tempo già da prima di Shinzo Abe e diciamo quindi una politica cade presso il valore dello yen e ha reso competitive le merci giapponesi sui mercati internazionali quindi una politica smaccatamente mercantilista che rientra pieno titolo nella postura giapponese ma che va a sommarsi a un io metterei in relazione con le politiche di lo stesso significato che gli Stati Uniti stanno cercando di portare avanti entro i propri confini nazionali quindi erogando sussidi incentivi per indurre industrie di tutto il mondo a rilocalizzare i propri stabilimenti entro i confini statunitensi si sta insomma ricreando un clima qualcuno, una forma diciamo diversa e attualizzata di neoprotezionismo in un modo o nell'altro che vedono i paesi intensificare la competizione tra di loro e ricreano un clima diciamo anche dal punto di vista strettamente economico-commerciale paragonabile a quello che precedette la prima guerra mondiale in cui si assisteva proprio a una competizione forse nata tra paesi che cercavano di conquistarsi effetti di mercato uno alle spese dell'altro e mi pare che il Giappone sia in prima fila in questo tentativo e quindi dal suo punto di vista sta segnando sta portando avanti una politica monetaria completamente in linea con quelli che sono stati identificati come interessi nazionali cioè espansione della produzione industriale rimpazzere delle produzioni che erano state delocalizzate all'estero e espansione della produzione manifatturiera queste sono le tre direttrici su cui si basa la politica giapponese da ormai molto tempo e tra i direttrici della politica giapponese Stefano a te la parola io vedo questa scelta e questa tendenza del Giappone un diretto collegamento con l'argomento che avevamo trattato nella puntata scorsa cioè il fatto che gli Stati Uniti facciano costruire da Taiwan la fabbrica dei microchip sul loro territorio anziché mantenerla a Taiwan e allo stesso modo i giapponesi fanno rientrare le industrie poste all'estero in un terreno asiatico che vedono sempre più sotto l'influenza cinese e lo facciano perché capiscono che il mondo sta andando verso una divisione in blocchi presto o tardi arriveranno forti sanzioni anche contro la Cina e questo perché gli Stati Uniti intendono bloccare anche loro quindi creare una nuova divisione del mondo attraverso gruppi e sfere di influenza fortissime con mercati chiusi l'addio alla globalizzazione ormai è un fatto e non si produrrà più dove costa di meno ma solamente presso i propri alleati stretti e possibilmente in casa quindi il Giappone si sta attrezzando per questo noi no molti fanno scelte per attrezzarsi per il futuro da questo punto di vista tutti tranne l'Unione Europea che arriva sempre dietro gli Stati Uniti abbiamo visto le misure di incentivi a sviluppare industria negli Stati Uniti ne abbiamo parlato anche bene la volta scorsa che attraverso l'Inflation Reduction Act forniscono ampiamente fondi 3-4 volte in numero rispetto a quelli dell'Unione Europea e questo è un incentivo potentissimo tant'è che Macron e ritorniamo al nostro Macron è andato negli Stati Uniti a dire a bacchettare per modo di dire gli Stati Uniti dicendo ma voi ci state facendo la bua e loro gli hanno detto e beh qual è il problema? qual è il problema? non l'avevate capito cioè a proposito di questa che il mondo ritorni a divisi in blocchi chi è che si occupa di adirglielo a Mattarella io dici tu Stefano tu Giacomo posso scrivergli una missiva ecco gli spiego due cose ma penso che lo sappia il problema è che in fin dei conti loro fanno gli interessi portano avanti comunque il compito per cui sono l'Insom esattamente esattamente quello che mi preme spiegare è che sono elementi tutti collegati questi quindi il Giappone è un alleato di ferro e resterà tale per gli Stati Uniti e pertanto si attrezza alle mosse che gli Stati Uniti faranno non per niente forse unico paese non anglosassone è avvicinato in qualche modo preparato all'ingresso nell'AUKUS e cioè l'unione delle forze Inghilterra Canada Stati Uniti e Australia che vedranno probabilmente anche il Giappone entrare per chiudere il Pacifico in quello che diventa il cortile di casa degli Stati Uniti ci proveranno la Cina non sembra molto d'accordo non sembra molto d'accordo allora adesso veniamo qui in Europa perché le decisioni adesso ce le spiegherai Giacomo della BCE su iniziativa di Christine Lagarde mettono a forte rischio i risparmi nostri degli italiani cosa vogliamo ricapitolare cosa ha fatto la Lagarde quello che fanno purtroppo sempre i presidenti delle banche centrali europee agiscono sempre in ritardo e emulando sempre le mosse che compiono prima gli Stati Uniti nello fattispecie la Federal Reserve che da marzo di quest'anno ha cominciato a innalzare con una certa convinzione i tassi di interesse ma con un obiettivo piuttosto chiaro cioè ripatriare capitali dall'estero e tamponare le spinte inflazionistiche che nel loro paese sono dovute per una quota piuttosto rilevante ai consumi perché con il fiume di denaro che era stato iniettato negli anni precedenti essenzialmente senza fine a partire dal 2008 e poi con lo scopo della pandemia con gli accrediti direttamente su conti correnti dei milioni di cittadini che hanno dato una spinta ai consumi che aveva incrementato i prezzi e diciamo ingigantito il deficit commerciale statunitense fondamentalmente quindi loro hanno innalzato i tassi di interesse con lo scopo di abbattere questo processo di consumi rimpatriare capitali dall'estero in una fase in cui il dollaro sembrava sempre più diciamo titubante perché ha conosciuto un forte rincaro a spese dell'euro essenzialmente ma solo grazie solo a prezzo di un innalzamento dei tassi di interesse che ormai toccano il 4% era molto tempo che non erano così alti quasi 20 anni quindi direi che e questo ha comunque degli effetti per esempio sul mercato immobiliare statunitense che da loro è il driver dell'economia nazionale essendo un'economia completamente industrializzata puntano tutto c'è l'unico settore che può garantire una crescita economica e può avere un impatto anche sulla popolazione perché muove l'edilizia muove tutto ciò che compete al mondo dell'edilizia e il mercato immobiliare ma se si alza i tassi di interesse e si appesantiscono le rate a carico dei mutuatari si va ad arrestare questo meccanismo e quindi già da loro hanno un effetto fortemente molto pesante sulla vita di milioni di cittadini statunitensi che fra l'altro per caratteristiche loro caratteristiche non hanno il becco di un quattrino di risparmi tendenzialmente e sono carichi di debiti privati con le loro carte di credito revolving e quindi direi che da noi la cosa completamente direi suicida perché la componente di gran lunga preponderante rispetto all'aumento dei prezzi che si registra all'interno dell'Unione Europea è dovuto alla crescita vertiginosa del costo dell'energia quindi che poi ci va per forza di cosa scaricarsi sui prezzi finali di riscaldamento di prodotti industriali e quindi già una situazione resa difficile da questo incremento astronomico dei costi di un input come l'energia si va a sommare un incremento dei costi del denaro quindi della capacità anche del sistema economico di rifinanziarsi a costi contenuti si va ad infliggere un'ulteriore batosta a un settore quello manifatturiero che già ne risiede pesantissimamente di questo aumento dei costi dell'energia tra l'altro l'impatto pesante anche questo è un po' in misura analoga a quello che si registra negli Stati Uniti si avverte anche sul settore delle famiglie perché i risparmi nel momento in cui cominciano i risparmi vengono erosi dall'aumento del costo di riscaldamento essenzialmente si arriva ad alzare in maniera così convinta i tassi di interesse e quindi mettere in difficoltà tutte quelle categorie che sono esposte nei confronti del sistema creditizio si condannano a milioni di persone si pongono nelle condizioni di dover per forza tagliare i consumi se va bene se questo riesce a tagliare i consumi per potersi mantenere a galla ma la cosa potrebbe non bastare perché se il volume se l'impatto del tasso di interesse comporta un incremento del costo dei mutui mensili di 200-300 euro qui la situazione si fa veramente veramente critica e questo è tutto sulla responsabilità di questa manovra completamente scriteriata e suicida è tutto sulle spalle di Christine Lagarde che io non ho mai espresso un minimo apprezzamento per questo individuo ma più passa il tempo più mi sembra veramente una persona indegna di ricoprire quel ruolo senti tra l'altro Giacomo l'altra azione della BCE consisterà nella riduzione della quantità di visin di 15 miliardi al mese da marzo attraverso il mancato rinvestimento dei titoli di Stato in scadenza no? Sì quindi da aggravare la situazione ecco se qui da questo punto di vista l'alzamento dei tassi di interesse colpisce direttamente soprattutto i settori quindi l'economia e le famiglie invece la riduzione dei quantitativi easing mette a rischio di condannare a un periodo di difficoltà molto pesante i riconti pubblici perché nel momento in cui viene a mancare la rete di protezione della banca centrale e quindi si lasciano gli stati in balia del cosiddetto mercato ecco che il differenziale tra i titoli comincerà tornerà a salire in maniera molto convinta e diciamo che l'interesse sui titoli di Stato crescerà in maniera forse non sostenibile per lo Stato non solo italiano anche per altri paesi europei quindi direi che è una mossa doppiamente diciamo devastante sul doppio settore sia del privato che del pubblico e quindi mi pare che la partita sia perdente su tutta la linea su tutta la linea Stefano Stefano Orsi a te un compito ingrato dover dire questo il per capire per chiarire bene che cosa vuol dire la dismissione di 15.000 titoli di Stato bisogna tornare con la memoria al 2011 quando per vendere e piazzare i nostri titoli di Stato dovevamo pagare un diciamo un intasso di interesse di 700 70 800 punti rispetto a quelli tedeschi questo voleva dire che pagavamo interessi estremamente più alti poi arrivò la la decisione di Draghi di whatever it takes no qualunque cosa sia necessario e quindi la la banca centrale europea iniziò con il quantity vising a comprare i titoli di Stato dei paesi e quali titoli di Stato comperava quelli in eccesso sui mercati per mantenere bassi i tassi ufficiali i tassi del costo diciamo che gli Stati dovevano pagare per piazzare queste missioni e quindi quali Stati avranno goduto maggiormente di questa misura chiaramente quelli che mettevano più titoli di Stato tra cui l'Italia il fatto che da un lato non ci sia più il quantitative easing quindi nessuno compri più i titoli di Stato emessi in eccesso e dall'altro lato ogni mese 15 miliardi di titoli di Stato vadano a scadenza e debbano essere quindi pagati dagli Stati senza più essere rinnovati è un doppio peso che va a gravare sui costi dei bilanci degli Stati perché da un lato non c'è più l'acquisto degli eccessi per tenere bassi tassi e dall'altro i titoli che vanno a scadenza che non vengono rinnovati i nostri conti riusciranno a sostenere questo esborso o no la preoccupazione di Crosetto che da buon orologio fermo segna almeno due volte al giorno l'ora esatta in questo caso ha avuto ragione nel senso lui si è preoccupato perché voglio dire qualcosa la capisce anche se il ministro della difesa sa come funziona e questo è una cosa estremamente pesante per noi e dall'altro lato arrivano già gli inviti all'Italia a usare il MES che è un altro strumento di grave sottomissione economica tramite il debito della libertà e della sovranità di un paese agli interessi della finanza di fatto i mercati no il Fondo Monetario Internazionale e la Troica non aspettano nient'altro che l'Italia firmi e richieda il MES è un trappolone enorme e fa specie che ci siano delle forze in Italia che invece spingono proprio per questo si sta distinguendo in questi giorni Calenda che dice da utilizzare per la sanità in pratica hai un commento da fare sul MES anche la Lagarde stessa i giorni scorsi proprio a margine delle comunicazioni Giacomo sull'aumento dei dettagli di interessi ha caldeggiato l'Italia a introdurre il MES Sì ma siamo le solite quello introdurre ulteriori condizionalità che deprivino definitivamente il paese di quel briciolo di sovranità che gli rimane perché il discorso del MES comporta proprio quello una sorta di prestito a strozzo un discorso molto semplice si tratta di tutti i vari meccanismi per incabbiare la spesa pubblica per diciamo renderla del tutto sottrarla al controllo delle autorità nazionali e porla invece nelle mani degli eurocati della commissione europea essenzialmente quindi si tratta di portare ulteriormente avanti quel processo di spoliazione della sovranità nazionale che nel disegno della Wonderlion e di chi per lei dovrebbe portare a trasformazione del vecchio continente in una sorta di Stati Uniti d'Europa che dovrebbero essere governati da personaggi come lei il problema è che questo non accadrà perché qui si andrà secondo me i nodi verranno molto prima e tutti questi calcoli che tendono a fare e non li stanno facendo solo dal punto di vista della spesa pubblica ma anche della cosiddetta politica energetica la realtà insomma si farà sotto questo aspetto si farà sentire molto prima che gli deliri di questi personaggi possano avere arrivano a conclusione a compimento tra l'altro spaventa proprio che la Lagarda abbia fatto chiaro riferimento a ulteriori aumenti del tasso quello è una cosa allucinante allora a proposito da Ursula von der Leyen che hai nominato poco fa Giacomo allora Repower EU questa è la nuova definizione del piano della commissione europea che mira a produrre energia pulita e a rendere l'Europa indipendente dai combustibili russi alcuni analisti hanno detto hanno commentato che l'Unione Europea sposta l'attenzione dal falcon con questo Repower EU chissà quando li pensano questi nomi spostare l'attenzione anche dal falimento del Price Cup in ogni caso la von der Leyen ha annunciato che tra Consiglio e Parlamento europeo è stato raggiunto un accordo provvisorio su questo Repower EU Giacomo dicci tu che ho fatto la rimabacciata no no ma il discorso è che questi senza neanche l'Unione Sovietica della pianificazione centralizzata si spingeva tanto ci credono veramente almeno a giudicare da come si esprimono credono veramente di poter portare il vecchio continente dell'Unione Europea a fare a meno delle energie fossili entro il 2030 una cosa letteralmente allucinante che non ha completamente realistica in un momento in cui addirittura fra l'altro si dicono che si avanzano queste tesi in un momento in cui un po' ovunque in tutto il continente si stanno riaprendo centrali a carbone proprio per fare per ovviare a tutti i problemi che si stanno presentando con l'ammanco delle forniture russe quindi dovuto anche chiaramente al sabotaggio dei due gasdotti Nord Stream al fatto che le centrali nucleari francesi la loro manutenzione richiede più tempo del previsto e adesso addirittura l'Italia sta esportando energia elettrica alla Francia ed anche alla Svizzera quindi alleggerendo le proprie anche consumando quindi le proprie scorte di gas perché l'energia elettrica viene consumata con il gas quindi una scelta mi dicono anche gas sì 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 quindi direi che è una scelta alquanto discutibile ma il problema è che questi come dicevo credono veramente di poter fare di portare a compimento un processo di quel genere che richiederà in ogni caso dei costi giganteschi riconfigurare tutte le filiere di distribuzione anche gli scarichi tutto il sistema manifatturiero convertirlo a fonti alternative rinnovabili e si pensi solo che Goldman Sachs a gennaio sottolineava che nel 2021 la componente delle energie fossili fa bisogno dei paesi industrializzati ammontava all'81% dieci anni prima era l'82% quindi 4 trilioni di dollari di investimenti in energie rinnovabili sono serviti a far calare dell'1% il contributo delle energie fossili nel paniere diciamo dell'utilizzo di tutte le energie disponibili quindi tutto questo la dice lunga sulle chance che hanno concretamente allo stato attuale le fonti fossili di piantare di sostituire quelle tradizionali quelle rinnovabili con quelle fossili volevo dire e quindi mi pare che tutti questi repower EU eccetera che fra l'altro la prima volta che fu lanciato fu lanciato mi pare a maggio del 2022 in cui prevedeva che immediatamente si dovesse cessare gli acquisti del petrolio russo di circa un terzo rispetto ai volumi precedenti senza aver precedentemente concordato con gli Stati Uniti delle forniture cioè accordi vincolanti che obbligasse gli Stati Uniti a fornire l'ammanco a prezzi diciamo accettabili quindi hanno scatola chiusa hanno preso quella decisione senza essersi preventivamente tutelati coperti le spalle con forniture sostitutive dagli Stati Uniti o dal Qatar eccetera quindi questi sono veramente degli avventurieri completamente dei politicanti improvvisati che non hanno la minima cognizione di cosa e secondo me sono molto Giacomo invece di dire Giacomo scusami ti interrompo invece di dire direttanti allo sbaraglio si potrebbe coniare la cosa collaborazionista allo sbaraglio ah sì perché una cosa del genere credere veramente di poter portare a termine un processo di quel genere di quella portata in così poco tempo in una congiuntura completamente sfavorevole come questa in cui l'Unione Europea è sottoposta a spinte è sottoposta a pressioni di tutti i tipi che vedono che spalancano concretamente le porte della deindustrializzazione del continente e questi parlano di sostituire le fonti fossili con quelle rinnovabili a me pare in l'arco di nemmeno dieci anni a me pare qualcosa di completamente abuso dalla realtà abuso dalla realtà Stefano Stefano a te la disamina di questo ultimo punto io credo che il primo effetto di un provvedimento a dire poco folle come questo potrebbe benissimo diventare il fatto che l'offerta di idrocarburi nel mondo aumenterebbe causando un abbassamento dei costi per gli altri in questo caso perché da noi non sarebbe più possibile commerciarne o usufruirne e quindi gli altri concorrenti avrebbero costi di energia ancora più bassi di produzione ancora più bassi quindi sarebbero estremamente competitivi rispetto a noi e noi ci precluderemmo di fatto tutti i mercati esteri a questo a questo andrebbe a questa possibilità andrebbe a far fronte con un potenziamento del mercato interno ma vediamo bene che sono da anni e anni trent'anni almeno dopo la distruzione della nostra classe dirigente che si va esattamente nella direzione opposta l'Unione Europea ha come politiche principali la distruzione del mercato interno l'impoverimento delle masse generalizzato come del resto Monti ci aveva ben spiegato lui ha agito diminuendo il mercato interno per far tornare i conti il bilancio con l'estero positivo per l'Italia ma non ha fatto crescere le esportazioni agito abbassando il mercato interno e continuiamo a fare questo esattamente l'opposto di quanto ha fatto la Cina che invece si è creata e ha fatto crescere il proprio mercato interno ecco le nostre scelte sono sempre strane folli come se l'Unione Europea si ritenesse un'isola a parte distante dal resto del mondo ma come diceva il famoso poeta nessun uomo è un'isola e meno che mai lo è l'Unione Europea e quindi non può fare i conti senza l'oste non può decidere di aumentare a dismisura i costi dell'energia e della produzione interni senza poi confrontarsi con il mercato esterno fuori a cosa servono le nostre industrie se non esporteremo più nulla cosa faranno metteranno le barriere doganali se qualche paese non attua il nostro stesso profilo esistenziale allora noi porremo dei vincoli alle importazioni da loro e loro porranno dei vincoli alle esportazioni da noi quindi torniamo allo stesso punto di partenza chiarissima la disamina è proprio molto molto chiara ci stiamo avviando alla conclusione caro ascoltatore di questa intervista colgo l'occasione per ricordarti che il nostro canale è demonetizzato da YouTube se trovi il lavoro che stiamo portando avanti quotidianamente da 4 anni sia importante e utile per la tua informazione e meritiamo il tuo sostegno allora supportaci con la tua donazione abbiamo per te due possibilità di sostenerci il bonifico bancario libero oppure la possibilità di unirti con un abbonamento a Patreon la community che abbiamo creato che ti permette di avere uno scambio più vicino con noi di fruire di notizie e materiale extra il tuo sostegno è e rimane fondamentale per l'esistenza e l'evoluzione del vaso di Pandora qui sotto nel testo trovi i riferimenti per scegliere come sostenerci cari Giacomo Gabellini e Stefano Orsi cari ascoltatori siamo in chiusura io vi ringrazio per le sempre preziose analisi la settimana prossima non andremo in onda lunedì che il giorno sarà Santo Stefano ma andremo in onda nel corso della settimana vedremo cosa è successo perché con le manovre poi che ci sono intorno all'Ucraina si preannuncia l'ha detto anche non so se Putin ma comunque si preannuncia un Natale non molto tranquillo e comunque gli analisti lo stanno lo stanno già pronunciando come un Natale non molto tranquillo staremo a vedere e vi terremo sempre aggiornati grazie grazie e grazie a Stefano auguri grazie 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 a tutti voi grazie a tutti